Non bisogna a volte dare delle definizioni. Fai fotografia, ti piace quello scatto, punto, basta, finito, non c'è. Bisogna sempre soffermarci sull'aspetto tecnico, l'aspetto quella è street, quella è urban, quella no, perché secondo me tutte queste cose, poi cosa succede? Che distolgono l'importanza che la fotografia ha in se stessa. Ciao ragazzi, come state? Io sono Walter Stolfi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo un pochettino vedere le differenze tra questi tre diversi generi fotografici, quindi parliamo di street photography, urban photography e travel photography. Vediamo un po' che differenze ci sono tra questi tre diversi generi fotografici, che però fondamentalmente tanto diversi non lo sono. E adesso entriamo un pochettino nel vivo. Ma è un mio pensiero, ovviamente qualcuno può pensarla in modo diverso, secondo me la fotografia è anche soggettiva, quindi ognuno può interpretarla come vuole, no? È libero di sentirsi, anche perché appunto la fotografia è un'espressione di noi stessi, quindi dobbiamo sentirci liberi di osare, di creare, no? Comunque, allora, la street photography per me è ovviamente, non solo per me, è ovviamente una questione di cogliere l'attimo, dove l'elemento principale è la persona, non solo, però per la maggior parte degli scatti l'elemento principale è la persona. E quindi street photography ti fa sempre pensare a fare delle fotografie in strada, quindi street, strada, no? Ma spesso facciamo l'errore di pensare che la fotografia, appunto la street photography, va fatta soltanto in strada, ma questa cosa io credo che sia, non sia proprio vera, perché la street photography ovviamente puoi farla ovunque, non per forza in strada, puoi farla sotto una metropolitana, puoi farla all'interno di un bar, puoi farla all'interno di una hall, di un albergo, puoi farla veramente ovunque, però l'elemento principale rimane sempre, secondo me, la persona, le persone, no? Quindi cercare di catturare una realtà di strada, una realtà di vita quotidiana, quindi una candid photography, no? Quindi una candid photography è una fotografia non imposa, quindi qualsiasi situazione non imposa, reale, viva, vissuta, raccontare la vita, raccontare le persone, raccontare la strada, quella è street photography e ovviamente, come dicevo prima, non va fatta per forza in strada. A differenza dell'urban photography, l'urban photography, secondo me, a differenza della street, non per forza devi focalizzarti sulle persone, anzi, secondo me le persone ti servono per, magari, come posso dire, concettualizzare, no, il tuo scatto all'interno di un contesto urbano. Quindi non per forza un soggetto primo piano, non per forza un soggetto che sta compiendo un'azione particolare, non per forza una situazione con questo soggetto che è il protagonista delle foto, ma puoi contestualizzarlo e dare la tua visione all'interno di quel concetto urban, della fotografia urbana, no? Quindi non per forza il tuo scatto urban deve essere per forza, ad esempio, di una fotografia urbanistica, perché poi lì ci sono diversi tipi di teorie, però puoi, ad esempio, mettere il tuo soggetto all'intesto di un bel contesto urbano, non per forza ovviamente troppo vicino, magari anche lontano, e concettualizzarlo, dare la tua visione di quella persona in quel contesto urbano. Quindi sì, gli elementi fondamentali sono le costruzioni e l'ambiente urbano, ma non per forza bisogna fare delle foto soltanto a delle costruzioni, appunto ad un paesaggio urbano. Devi essere bravo, devi essere capace, ovviamente questo viene con l'esperienza, devi essere capace di inserire i tuoi soggetti all'interno di un contesto urbano. A differenza della street photography, puoi anche permetterti, anzi, devi raccontare una storia, quindi il protagonista è la persona, mentre quello è l'urban, puoi permetterti anche di non raccontare subito la scena che stai fotografando, perché non avere un soggetto troppo in primo piano, non far vedere proprio l'azione che si sta svolgendo, quello puoi inserirlo magari in un contesto urbano. Mentre la travel photography, secondo me la travel photography non è altro che documentare un qualcosa di diverso dal paese in cui viviamo, dal paese in cui siamo. Quindi raccontare un paese diverso dal nostro, gli usi, i costumi, diversi tipi di approcci alla vita, no? Quindi quello è il travel photography. Nella travel photography puoi permetterti anche di osare un attimino e fare anche delle foto, passatemi il termine, leggermente in posa. Ad esempio se è una persona in strada, perché soprattutto nel sud-est asiatico, quando ti vedono con la camera vogliono farsi fotografare, quindi si mettono in posa, no? Magari, e anche se non è prettamente una situazione reale, no? Perché la persona si mette in posa, però quella cosa lì rispecchia la travel photography, perché racconti, fai vedere un qualcosa di un altro paese. Quindi anche quello scatto lì, se magari è leggermente in posa, va bene. Ad esempio, tante fotografie del fotografo più famoso del mondo, Steve McCarrie, sono fotografie in posa. Anche se sono in strada, sono in posa, perché le persone le fa posare, a volte, non sempre, eh? A volte. Però a volte le fa posare. Quindi è anche quella cosa lì, è anche quella cosa lì, ha a che fare con la street photography, ha a che fare con, ovviamente, la travel photography. Quindi secondo me questi generi, travel, urban, street, qualsiasi altro nome, hanno comunque un concetto di base che viene dalla street photography. Quindi possiamo trovare mille nomi, ma fondamentalmente parliamo di street photography, parliamo di fotografia, di raccontare la vita, no? Quindi secondo me fare una foto in strada con dare una priorità ad un concetto urbano, dare una priorità ad una persona, dare una priorità a raccontare la vita di un altro paese, hanno sempre, sono sempre collegate queste fotografie tra di loro. Ovviamente puoi focalizzarti su un genere rispetto ad un altro, ma comunque secondo me di fondo c'è la stessa concezione della fotografia. Il tuo focus può andare su uno di questi tre generi, dipende ovviamente quello che ti piace di più. Ad esempio a me non piace tanto fare foto urban, le faccio perché in alcune situazioni mi piace anche fare quello, mi piace di più fare street photography, ultimamente mi piace anche molto fare travel photography, perché mi sbizzarrisco in strada perché ci sono delle cose ovviamente che non sono qui in Italia, quindi mi piace tanto raccontare la vita di un altro paese. Quindi questi due generi sono quelli che mi piacciono di più, mi rispecchiano di più, quindi io mi trovo più a mio agio con questi due generi e cavalco e sto dentro questi due generi. Ma vi ripeto, dare delle definizioni per quanto riguarda la fotografia di strada è secondo me anche un po' eccessivo perché va bene tutto, nel senso che non bisogna a volte dare delle definizioni. Fai fotografia, ti piace quello scatto, punto, basta, finito, non c'è, bisogna sempre soffermarci sull'aspetto tecnico, l'aspetto quella è street, quella è urban, quella no, perché secondo me tutte queste cose, poi cosa succede? Che dissolgono l'importanza che è la fotografia in se stessa, quindi però ci tenevo soltanto a vedere un pochettino questi tre diversi generi fotografici, ditemi anche voi il vostro parere. E quindi ricapitolando, street photography, sì possiamo dire che si concentra sulle persone, l'urban ovviamente più sull'aspetto urbanistico, quindi inserire nell'ambiente urbano un soggetto, una persona o qualcuno per dare la nostra visione di quell'ambiente, ovviamente la travel photography è documentare le persone, la vita di un altro paese che non conosciamo e niente, questo ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile e come al solito vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like qui su YouTube per supportarmi, per supportare questo mio progetto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Ciao! 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 Grazie.